Senti, possiamo dire che siete antifascisti? Sì, direi di sì. Antirazzisti? Sì. Siete l'antidoto al populismo, al sovranismo? Non volevamo esserlo, ma lo siamo diventati. Ciao Mattia, vorrei chiederti un chiarimento riguardo i valori delle sardine. Infatti sento parlare di valori democratici, di antifascismo e vorrei farti qualche domanda. Anzitutto vorrei chiederti qual è secondo te l'ostacolo ai valori democratici e antifascisti che dici di sostenere. Sapresti indicare l'ostacolo che questi valori incontrano in Italia? Inoltre, vorrei invitare te e le sardine a riflettere su alcuni fatti, ad esempio. Nel primo caso, prendo per esempio il referendum sull'aborto, dove oltre l'80% della popolazione ha votato in favore del diritto di scelta, ma, dopo il voto, l'80% dei medici ancora oggi si rifiuta di prestare assistenza e, per motivi personali, boicotta le istituzioni e i diritti dei cittadini. Mi chiedo riguardo il 100% dei procuratori della Repubblica, che approvano e accettano l'interruzione di pubblico servizio dei medici, come se fosse libertà di scelta e non abuso premeditato, visto che hanno scelto di fare un mestiere sapendo che lo avrebbero boicottato e con esso le istituzioni. Mi chiedo riguardo lo Stato, se possa veramente dirsi garante dei valori democratici e dei diritti dei cittadini. Il secondo esempio, inerente ai diritti dei cittadini, ci viene presentato dall'ex ministro della Giustizia, che ci ricorda dell'esistenza di 9 milioni di casi arretrati in attesa di processo. Questo equivale a oltre il 15% della popolazione in attesa di processo. Anche in questo caso devo chiedere se lo Stato possa dirsi garante dei valori democratici. In questo terzo esempio vado alla ricerca di valori e di cultura che siano compatibili con quanto appena detto e vorrei che qualcuno ben educato mi ricordasse di un valore democratico che sia anche un valore cattolico. C'è una sardina che mi sa dire se la libertà di scelta oppure il diritto che deriva dalla legge secolare dell'uomo siano mai stati dei valori cattolici? Vorrei sapere se questo aspetto della cultura nazionale sia all'origine dei problemi elencati in precedenza. Infatti i valori democratici sono tutti eresie cattoliche. Sapreste dire un valore democratico che non sia anche un'eresia cattolica? Mattia, tu ci hai mai pensato se i valori democratici siano compatibili con i valori nazionali stabiliti dal primato cattolico della cultura? Cosa credi? Che la libertà di scelta sia un valore cattolico solo perché i medici sono liberi di boicottare le istituzioni così come i giudici sono liberi di boicottare il corso della giustizia e procrastinare all'altro mondo i diritti della gente? Tu credi che dal palco sia preferibile leggere Goering oppure l'italianissimo Mussolini che proclama le leggi razziali a difesa del primato cattolico della cultura soprattutto e specialmente contro le eresie del pensiero moderno, il pensiero democratico e secolare? Per favore, lo dici tu al tuo amico che il ghetto ebraico di Roma è stato costruito con i ritagli delle pietre durante la costruzione della basilica di San Pietro? Lo sai in Italia quanto sono antichi i ghetti ebraici come quello di Roma oppure quello di Venezia? Credi che Auschwitz possa reggere il confronto con la storia, la cultura e la tradizione dei ghetti italiani antichi di quasi mille anni? Piuttosto che leggere Goering, perché non leggete la scomunica ai valori secolari della democrazia perseguiti come ideali eretici e comunisti? Ma tu lo sai cosa fanno gli italiani, quelli veramente bravi e beneducati, al di sopra della media? Sicuramente preferiscono leggere Goering a Mussolini, ma ci sono esempi migliori. In questo nuovo esempio, il modello del caso è Giulio Reggeni, sicuramente uno bravo al di sopra della media. Di Giulio sappiamo dal giornale che, dopo la terza media, in Italia, non ha mai conseguito nessun diploma o titolo di laurea e che, con il diploma di terza media, si è iscritto per due anni al collegio dei preti nel deserto del New Mexico, da dove poi si è iscritto a Cambridge con le raccomandazioni del vescovo, raccomandazioni per diplomi e lauree che, ovviamente, Giulio non ha mai conseguito. La verità è che loro sono più bravi, sono superiori e meglio educati. Magari non sanno dire un valore democratico che sia anche un valore cattolico, ma questo per loro non è un problema perché loro non condividono questi valori che, anzi, considerano eretici. Loro rappresentano il primato della cultura e della razza e si adeguano al comportamento del loro leader morale che, apertamente, pretende di rispettare il prossimo, ma non sarebbe mai e poi mai in grado di dire un valore democratico che sia anche un valore cattolico. E così, ancora oggi, loro, nella loro personalissima scala di valori, loro sono più bravi, selezionati al di sopra della media. Loro possono avere raccomandazioni per diplomi e lauree che non hanno mai conseguito, al contrario degli altri, che non riescono nemmeno ad avere conferma dei loro titoli di laurea veri, emessi da Università di Stato italiane, e poi si vedono pure sparire le denunce dai tribunali italiani. Forse, le sardine credono che un giorno Mussolini si sia svegliato e abbia detto «Oggi invento il primato cattolico della cultura e poi faccio le regi razziali per difenderlo». La verità è che dopo 60 anni di vita democratica in Italia, nessuno mai avrebbe chiesto come avrebbero fatto i valori democratici a diventare tradizione cattolica. Nessuno mai avrebbe chiesto ai giornalisti più inquisitivi o ai politici più democratici come avrebbero fatto i valori democratici a diventare tradizione cattolica. Facciamo una prova. Gentile direttore Carlo Verdelli «Secondo lei è possibile che sia stato Mussolini a inventare il primato cattolico e le leggi razziali? Secondo lei mi sbaglio quando vi chiamo negazionisti?» Nei fatti la resistenza e l'opposizione a Mussolini «Furono perseguiti come apostati, come eretici e nemici dello Stato. Direttore, perché non ricorda mai degli apostati, che sono diventati tali solo dopo che i valori democratici sono diventati eretici, così come i valori secolari della giustizia che queste persone difendevano e che sono stati religiosamente perseguiti come eretici, apostati e nemici dello Stato al fine di difendere il primato cattolico imposto dal fascismo, al fine di trasformare i valori democratici in tradizione cattolica, come se questo fosse possibile. Nei fatti Mussolini ha perseguito molti più democratici italiani e socialisti italiani e liberali italiani, anarchici italiani, comunisti italiani, molti più italiani che ebrei, ma voi vi ricordate solo degli ebrei. Come mai, signor direttore, siete razzisti? O vi avvalete della scusa, l'alibi preconfezionato dei valori nazionali? Se lei e la redazione non sapete dire un valore democratico che sia anche un valore cattolico, se non sapete dire come avrebbero fatto i valori democratici a diventare tradizione cattolica, mi chiedo dove sia finita tutta la vostra educazione e selezione al di sopra della media? Caro Mattia e Sardine, questi sono i fatti incontestabili della democrazia italiana e gli archivi della polizia e dei tribunali della Repubblica sono solo l'estensione degli archivi della vergogna di Mussolini. Quello che ci mancava in Italia era qualcuno per leggere Goering in tedesco, con scherno e disprezzo, piuttosto che leggere il sempre italianissimo Mussolini e la scommunica ai valori secolari della democrazia, che ha perseguito come ideali eretici e comunisti. Credi che i valori democratici possano diventare tradizione cattolica solo perché la folla balla e si diverte leggendo Goering oppure perché lo dice la maggioranza? Credi che 60 milioni di sardine sarebbero sufficienti per trasformare i valori democratici in tradizione cattolica? Ma, se vuoi, puoi fare il democratico e farti capire come tale. In questo caso, invece di chiedere i diritti di Giulio Regeni, l'italiano modello, l'eroe benedetto al di sopra della media, perché non chiedete giustizia per i 9 milioni di italiani che non riescono ad avere i loro diritti secondo le leggi dello Stato italiano? Invece di leggere Goering con scherno e disprezzo, perché non leggete la scomunica ai valori secolari della democrazia, perseguiti come ideali eretici e comunisti? Perché non leggete il primato cattolico della cultura oppure le leggi razziali di Mussolini, che sono già in italiano? Perché non denunciate i medici e i procuratori che boicottano le istituzioni? Perché non denunciate i vostri insegnanti per le idiozie antisociali e antidemocratiche che insegnano? Perché non chiedete al vostro leader spirituale come avrebbero fatto le eresie cattoliche a diventare tradizione cattolica senza l'aiuto delle leggi razziali di Mussolini e senza un genocidio permanente? Provate a chiedere se i suoi studenti tipo Regeni sono veramente più bravi o sono solo più mafiosi con la vocazione per tradire e boicottare le istituzioni perché è questo quello che fanno quando pretendono di trasformare i valori democratici in tradizione cattolica a meno che non sappiate dire un valore democratico che sia anche un valore cattolico Detto questo, puoi dirti ancora democratico e antifascista o sei piuttosto un altro democratico ecumenico come Beppe Grillo uno per cui i valori democratici vanno cercati nel Vangelo piuttosto che nelle leggi dello Stato? Siamo qui al Viminale per la presentazione del simbolo elettorale della lista di Casa Pound Italia ovviamente all'italiana come stile italiano già c'è una fila abbastanza lunga dei partiti e dei movimenti che come noi devono presentare il proprio simbolo e raccogliere le firme per presentarsi in Parlamento di Casa Pound Italia vogliono sapere se è antifascista o no questo è un problema che non mi conviene questo movimento è ecumenico è un problema che non mi conviene